Anche in Toscana il clima è cambiato e continuerà a cambiare. I segnali che noi abbiamo rilevato appunto da quelli che sono i dati delle stazioni meteo che sono presenti sul nostro territorio ci dimostrano come la temperatura è aumentata di poco più di un grado negli ultimi 50 anni. E questo aumento è ancora più consistente nella stagione estiva dove addirittura abbiamo un aumento di due gradi ogni 50 anni. Se facciamo una gradatoria dal 1950 ad oggi delle estate più calde i primi 20 posti vengono occupati dall'estate dal 2000 al 2021. Ad oggi il primo posto occupato dal 2003, la famosissima estate parecchio calda e parecchio lunga, non è detto che il 2022 si possa appunto porre al secondo posto o addirittura abbattere quello che è il 2003. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.